Ciao Domini, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Domina Fragola e racconto di storie, biografie e fatti culturosi con un tocco nerd. Oggi video recensione sul nuovo film Disney, Peter Pan e Wendy. In realtà non volevo fare nessuna recensione, cioè in realtà io non volevo proprio vederlo quel film perché mi è bastato il trailer. Però giustamente una mia cara amica mi ha fatto notare che ho fatto due video su Peter Pan e è ridicolo non fare una recensione del nuovo film. E quindi io farò questa nuova recensione di questo film, però male perché io non so recensire i film e non mi occupo di questo nel canale. E vi dico subito che appunto la recensione sarà completamente a cacchio perché io non so recensire i film appunto, però ci proverò. In realtà non c'è niente da recensire perché questo film fa schifo a prescindere, cioè è brutto dall'inizio alla fine. Comunque ragazzi, io mi sono presa la libertà di scrivere degli appunti su questa recensione e scritti su uno scontrino usato perché è giusto qua se può scrivere la recensione di questo film de merda. Tra l'altro notare, notare ecco, questi sono i miei appunti su questo film e comunque sono scritti meglio della sceneggiatura del film, ecco. Tra l'altro sono illegibili perché io scrivo male e comunque incominciamo. Peter Pan e Wendy, il nuovo film della Disney fatto uscire per i cento anni della Disney. Per necessità, Dominio, devo fare degli spoiler. Spoiler, poi forse è meglio che ve lo racconto io perché vi risparmiate, non so, i soldi dei Disney Plus, ma anche proprio gli occhi vi risparmiate. Iniziamo dalla trama. La trama? Io vorrei fare un appello, no? Un appello alla Disney. Tu hai già fatto un film su Peter Pan, giusto? Non era il massimo, però è un bel cartone da vedere, bene. Va bene, devi fare un nuovo film su Peter Pan, no? Potresti iniziare, è un suggerimento, è un suggerimento con il leggere il libro originale. Potrebbe essere uno spunto, che dite? Leggiamo il libro originale, è un libro per ragazzi, lo puoi leggere, non lo so, in una giornata. Ce la puoi fare, Disney, a leggere un libro per fare un film, no? Però no, non leggiamo il libro, quindi la trama è fatta un po' così. Cioè, qualche sceneggiatore si è ricordato una storia di un certo Peter Pan che gli raccontava su madre e c'ha scritta la sceneggiatura, perché non c'entra niente con il romanzo originale, che, cioè, ci può stare, puoi fare una rielaborazione. Maleficent, alla fine, è una rielaborazione della bella addormentata del bosco. Ma non inventarti la trama, modificare i personaggi, fare altro e creando una nuova storia. Cioè, non funziona così. Perché devi cambiare tutto? Intanto vi consiglio di andarvi a pescare i due video che ho fatto su Peter Pan, basati, appunto, sui romanzi, in cui vi racconto la storia vera, i personaggi come sono descritti nel romanzo. Comunque, nel mio scontrino di appunti, ho scritto... Allora, Wendy non vuole crescere, sì. Wendy è la protagonista, cioè, non è Peter Pan, il protagonista è Wendy. Nel romanzo originale, Wendy è una casalinga, una donna sposata in miniatura casalinga, che vuole fare la madre. Questo è Wendy, e quindi io capisco che nel 2023 vuoi cambiare un minimo il personaggio, perché comunque non è educativo che mostri che il ruolo di una bambina, una futura donna, è quello di fare la casalinga. E gli piace pure l'idea di farlo. Quindi ci sta, cioè, per carità, può piacere o non può piacere, però è un film rivolto a tutti, quindi non puoi dare per scontato che una ragazzina di dieci anni voglia fare la casalinga e la mamma nella vita, insomma. Quindi ci sta. Quindi questa nuova Wendy, praticamente, non vuole crescere, o comunque non è sicura di crescere, vabbè, sta in quel periodo che hai paura di crescere e tutto quanto. Ok, però a renderla la protagonista assoluta, cioè, io l'ho capito che volete fare dei film con le donne che hanno più ruolo di protagonista e ci sta. Ma si chiama Peter Pan e Wendy, vogliamo mettere anche Peter Pan come protagonista? Peter Pan, ragazzi, non è insignificante, cioè, mi spiace dirlo, ma è inutile. Che c'è o non c'è? La protagonista è Wendy, almeno questa è la mia opinione. Questo Peter Pan è un po' scialbo, purtroppo il suo ruolo non spicca. Ma la cosa che mi ha un po' inquietato è che Peter Pan va da Wendy apposta per prenderla e portarla all'isola che non c'è, perché lui ha sentito che Wendy non vuole crescere. Peter Pan non rapisce i bambini, non è che, sente, ah, non voglio crescere più i bambini e lo rapisce e lo porta all'isola che non c'è. Beh, non funziona così, non è così. Peter Pan prende i bambini che hanno perso le mamme e il motivo per cui poi prende Wendy nel romanzo originale non è perché Wendy non vuole crescere, anzi, Wendy non vede l'ora di fare da madre. Peter Pan andava a trovare Wendy e i suoi fratelli perché gli piaceva ascoltare le storie che sua mamma contava ai figli. Quindi semplicemente stava lì a sentire, non ha mai voluto rapire Wendy perché Wendy non voleva crescere, questa cosa non c'è nel romanzo. Ma se dovessi dirvi tutto ciò che non c'è nel romanzo qua diventiamo pazzi perché la trama è completamente stravolta. Quindi non so neanche che dirvi ragazzi, è tutto sbagliato. Vogliamo parlare di Trilly? Trilly? Ok, non avete letto il romanzo? Avete visto un qualsiasi film su Peter Pan prima di questo scempio? Trilly è una stronza, cioè Trilly è una fata gelosa di Wendy, gelosa di Wendy. Il suo unico obiettivo è eliminarla fisicamente e qui in questo film Trilly è una fata buona che addirittura fa amicizia con Wendy, addirittura. Cioè c'è più sentimento tra Trilly e Wendy che tra Wendy e Peter Pan. I bimbi sperduti, i bimbi sperduti ci hanno messo le bambine. Va bene che ci mette delle bambine, anche se nell'opera originale non c'erano le bambine perché l'autore diceva che erano troppo intelligenti per cadere dalle culle. Quindi in realtà il fatto che non ci sono bimbe sperdute è perché le bambine sono considerate più sveglie dei bambini. Vabbè, però l'hanno messo e va bene lo stesso raga, questo è il minimo dai. Capitan Uncino, cioè Capitan Uncino si sono inventati una storia inutile. Perché? Perché inventarsela? Cioè in questo film Capitan Uncino è un ex bimbo sperduto, migliore amico di Peter Pan, va bene. Però è stato cacciato, questo è spoiler, è stato cacciato da Peter Pan dall'isola che non c'è perché a James Uncino gli mancava la mamma. Cioè il cattivo adesso è Peter e quindi James per vendicarsi è diventato cattivo. Non solo, ma è stato raccolto da Spugna, cioè Spugna ha preso il giovane James Uncino e l'ha fatto diventare capitano della sua nave, così, poi Spugna, inutile, proprio... Scusate, devo leggere tutti gli appunti fantastici che ho scritto. Ah, Giglio Tigrato. Giglio Tigrato in realtà a me è piaciuta, è fatta molto bene perché comunque mi sembra che rispetti anche gli indiani, parla anche della lingua degli indiani d'America, non so di quale tribù. Però un gran personaggio è Giglio Tigrato, lo era anche nel romanzo comunque, anche nel romanzo era bella tosta, Giglio Tigrato, l'incontro tra Wendy e Giglio Tigrato. Wendy arriva con i suoi fratelli, atterra sull'isola che non c'è e incontra Giglio Tigrato e diventano subito amici. Non c'è assolutamente la scena che Giglio Tigrato viene salvato da Peter Pan, non c'è niente, c'è solo Wendy che scende dall'isola che non c'è, trova i bambini sperduti e poi combattono contro Uncino. Poi alla fine Wendy, John e Michael tornano a casa con i bimbi sperduti la sera stessa, quando in realtà appunto nel romanzo ci stanno tanti giorni, tanti mesi nell'isola che non c'è, quindi i genitori sono molto preoccupati e qui ritornano la sera stessa. Io ho capito che tu vuoi fare qualcosa di alternativo, ma questo è un livello... Hai preso dei personaggi, li hai mischiati, ci hai fatto un'altra storia e hai creato un film, ma non lo chiamare Peter Pan e Wendy, cioè chiamalo, lo so, Wendy alla riscossa, tanto è lei la protagonista. Cioè addirittura c'hai i superpoteri più di Peter Pan, Wendy solleva le barche con la forza del pensiero delle fate. Scusate, io non ne la posso fare. Comunque, se volete sentirvi male, guardatevelo, magari a qualcuno piace, insomma, chi sono io per giudicare. Comunque, intanto vi dico, Peter Pan non fa così schifo, cioè è una bella storia, ecco, se avete visto il film e siete rimasti traumatizzati, ecco, tranquilli. Se volete vedere qualcosa di meglio, io vi consiglio appunto il film della Disney, quello vecchio, il cartone, quello del 2003 di Peter Pan e Cook Capitanoncino. Già sono guardabili e sono molto belli e la Disney deve smettere di fare ste cacate perché io non posso vedere sto scempio ogni volta. Mo' deve uscire il film dalla sirenetta, chiamosi almeno guardabile. Lei è fighissima, quindi sicuramente lo vedrò per lei. Poi, non lo so, la Disney veramente sta cadendo molto in basso con questi film. Cioè mi ha fatto ancora più schifo di Pinocchio. E questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio di avermi sopportato nello sclero perché non mi ero preparata il video. In realtà ho acceso la telecamera e mi sono messa a sclerare, quindi mi scuso se non avete capito niente di quello che ho detto. Io quindi vi ringrazio per essere rimasti qui con me fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale se volete seguire altri video dove sclero meno. Io vi invito a iscrivervi al canale cliccando la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video. Mettere mi piace e trallallero trallallà. Tutto detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!